Viviamo in un secolo in cui i burloni si comportano come becca morti e si chiamano uomini politici. Oggi da noi non esiste più la vera burla, la burla schietta, allegra, sana e semplice dai nostri padri. Eppure, che c'è di più comico e divertente di una burla? Che cosa può divertire di più che farsi gioco delle anime credule, beffare gli sciocchi, ingannare i maliziosi, far cadere anche i più furbi in trappole comiche e inoffensive? C'è forse qualcosa di più delizioso che prendere in giro al prossimo, costringerlo a ridere di se stesso per la sua ingenuità, o se si arrabbia, vendicarsene con un'altra burla? Oh, quante ne ho combinate io di burla in vita mia! E quante me ne hanno fatte per bacco! E di belle? Sì, ne ho combinate. Di divertenti e di terribili. Una ha avuto come conseguenza la morte della vittima. Non fu una perdita per nessuno. Un giorno la racconterò, ma non so come potrei farlo in modo decente, perché la mia burla, decente, non lo era affatto, anzi, tutt'altro. Ebbe luogo in un villaggio nei dintorni di Parigi. A quel ricordo i testimoni piangono ancora da ridere, nonostante che il burlato sia morto. Pace all'anima sua! Oggi ne voglio raccontare due, l'ultima che ho subito e la prima che ho inflitta. Cominciamo dall'ultima subita, che trovo meno divertente, essendone stato la vittima. Eravamo in autunno e con alcuni amici ero andato a caccia in un castello della Piccardia. Naturalmente i miei amici erano dei gran burloni. Non voglio conoscere altra gente che loro. All'arrivo mi fecero un'accoglienza così principesca che mi mise in sospetto. Spararono colpi di fucile, ma brazzarono, mi fecero mille moine come se si aspettassero da me i grandi favori. Io mi dissi, attento vecchia volpe, stanno preparando qualcosa. Durante la cena l'allegria fu eccessiva, esagerata. Pensavo, si divertono troppo e senza una ragione plausibile. «Devono avere in animo qualche tiro. È a me che l'hanno destinato, ne sono sicuro. Attento!» Durante tutta la serata risero esageratamente. Sentivo nell'aria uno scherzo, come il cane che sente la selvaggina. «Ma quale?» Stavo allerta e inquieto. Non mi lasciavo sfuggire una parola, né un'intenzione, né un gesto. Tutto mi pareva sospetto, perfino le facce dei domestici. Venne l'ora di coricarsi, ed ecco che si misero ad accompagnarmi in camera mia, in processione. Perché? Mi strillarono buonanotte. Entrai e rimasi immobile, senza fare un passo, con la candela in mano. Udivo ridere e bisbigliare nel corridoio. Certamente mi spiavano. Ispezionai con un'occhiata ai muri immobili, il soffitto, la tapezzeria, il pavimento. Non vedi nulla di sospetto. Udì camminare dietro la porta. È chiaro che venivano a guardare dal buco della serratura. Mi venne un'idea. Forse la mia candela si spegnerà all'improvviso, lasciandomi al buio. Allora accesi tutte le bugie del caminetto. Poi mi guardai ancora attorno, senza scoprire nulla. Avanzai a piccoli passi facendo il giro della stanza. Niente. Mi avvicinai alla finestra. Le imposte, grosse imposte di legno pieno, erano rimaste aperte. Le chiusi con cura. Poi tirai le tende. Enormi tende di velluto. E ci misi davanti una sedia, per non avere nulla da temere dal di fuori. Mi sedetti con precauzione. La poltrona era solida. Non osavo coricarmi. Tuttavia il tempo passava. Finii per riconoscere che era ridicolo. Se nell'attesa che lo scarso riuscisse mi stavano spiando, come supponevo, chissà come ridevano del mio terrore. Decisi quindi di coricarmi. Ma il letto mi parve particolarmente sospetto. Tirai le cortine. Parevano solide. Eppure il pericolo era lì. Forse avrai ricevuto una doccia gazzata dal baldacchino del letto. Oppure, appena disteso, sarai sprofondato sottoterra con tutto il cassone. Cercavo nella memoria tutti i ricordi di burle compiute. E non volevo cascarci. No, no. Allora mi venne in mente all'improvviso una precauzione che ritene i sublime. Afferrai delicatamente il bordo del materasso. E lentamente lo tirai verso di me con le lenzuole e le coperte. Trascinai tutta quella roba nel bel mezzo della stanza, di fronte alla porta d'ingresso. Rifeci lì il mio letto meglio che potei, lontano dal cassone sospetto e dal baldacchino inquietante. Poi spensi tutte le luci e tornando a tastoni mi infilai nelle lenzuola. Rimasi sveglio ancora un'ora, trassalendo al minimo rumore. Nel castello tutto sembrava calmo. Mi addormentai. Dovetti dormire a lungo, ed un sonno profondo. Improvvisamente fui svegliato di soprassalto dalla caduta di un corpo pesante abbattutosi sul mio. E contemporaneamente mi sentii scorrere sulla faccia, sul collo, sul petto un liquido ardente che mi fece gettare un urlo di dolore. E mi riempì le orecchie un rumore spaventoso, come se fosse crollata una credenza carica di stoviglie. Soffocavo sotto la massa caduta mio addosso, che rimaneva immobile. Allungai la mano, cercando di riconoscere la natura. Trovai una faccia, un naso, due favoriti. Allora, con tutta la mia forza, scaraventai un pugno in quella faccia. Ma ricevetti immediatamente una granuola di schiaffi, che mi fecero uscire con un balzo dalle lenzuola e scappare in camicia nel corridoio, nel quale vedevo la porta aperta. Oh, stupore! Era giorno fatto. Al rumore accorsero tutti, e seduto sul materazzo trovarono il domestico, che portandomi il tè del mattino aveva trovato sulla sua strada il mio giaciglio improvvisato, e mi era caduto addosso, versandomi in faccia, senza alcuna colpa, la colazione. La sola precauzione di chiudere le imposte e di coricarmi in mezzo alla camera aveva costituito la burla tanto temuta. Ah! Ne facemmo di risate! Quel giorno... L'altra burla che voglio raccontare risale alla mia prima giovinezza. Avevo quindici anni e passavo le vacanze dai miei genitori in un castello sempre in Piccardia. Veniva spesso in visita da noi una vecchia signora di Amean, insopportabile, sermonizzante, arcigna, brontolona, malvagia e vendicativa. Mi detestava, non so perché, e non cessava di censurarmi, prendendo in mala parte le mie parole e tutti i miei atti. Oh! Vecchia arpia! Si chiamava signora Dufour, portava una parrucca del più bel nero, benché avesse almeno sessant'anni, e su quella inalberava certi ridicoli cappellini ornati di nastri rosa. La rispettavano perché era ricca, ma io la odiavo con tutto il cuore e decisi di vendicarmi dei suoi modi villani. Avevo finito allora la seconda liceale e durante le lezioni di chimica mi avevano colpito particolarmente le proprietà di un corpo chiamato fosfuro di calcio che a contatto dell'acqua si infiamma, detona e sviluppa nubi di vapore bianco ad un puzzo insopportabile. Per divertirmi durante le vacanze avevo sottratto qualche manciata di questa materia che all'occhio ha una certa somiglianza con la gruviera grattugiata. Avevo un cugino coetaneo al quale comunicai il mio progetto. Fu spaventato da tanta audacia. Dunque una sera, mentre tutta la famiglia era ancora in salotto, penetrai furtivamente nella camera della signora Dufour e mi impadronì, scusate signori miei, di un recipiente di forma rotonda che si usa a celare non lontano dal capezzale del letto. Ma assicurai che fosse perfettamente asciutto e mise nel fondo una manciata, una grossa manciata di fosfuro di calcio. Poi andai a nascondermi in solaio, aspettando l'ora. Presto un rumore di voce e di passi ma annunciò che tutti si ritiravano. Poi si fece silenzio. Allora scesi, scalzo, trattenendo il respiro e avvicinandomi alla camera della mia nemica, posì l'occhio al buco della serratura. Lei accomodava con cura le sue cosette. Poi si spogliò ad agio ad agio e si infilò una grande vestaglia che sembrava appiccicata alle sue ossa. Preso un bicchiere, lo riempì d'acqua e ficcandosi in bocca una mano come se avesse voluto strapparsi la lingua, ne trasse qualcosa di rosio e di bianco che tuffò subito nell'acqua. Ebbi paura come se avesse assistito a un mistero vergognoso e terribile. Non era altro che la dentiera. Poi si tolse la parrucca nera e apparve con un piccolo cranio insipriato di qualche capello bianco, così comico che poco mancò questa volta scoppiasse in una risata dietro la porta. Quindi recitò la preghiera, s'alzò, s'avvicinò allo strumento della mia vendetta, lo posò in terra in mezzo alla camera e abbassatasi lo copersa interamente con la vestaglia e il culo. Aspettavo, col cuore palpitante. Lei era tranquilla, contenta, felice. Aspettavo. Felice anch'io, come lo si è quando ci si vendica. Udì dapprima un leggerissimo rumore, uno sciaguattio e subito dopo una serie di detonazioni sorde, come una fucileria lontana. In un attimo, sul viso della signora Dufour, passò qualche cosa di spaventoso e di sorprendente. I suoi occhi si apersero, si chiusero, si riepersero, poi senza discatto, con un'agilità della quale non l'avrai creduta capace. E guardò. L'oggetto bianco crepitava, detonava, pieno di fiamme vive e guizzanti, come il fuoco greco degli antichi. E ne usciva un fumo denso che si arriva al soffitto, un fumo misterioso, terrorizzante, come un sortilegio. Che cosa dovete pensare, la povera donna? Credette a un'astuzia del diavolo? A una malattia orrenda? Credette che quel fuoco, uscito da lei, credette che quel fuoco, uscito da lei, stesse per distruggerle le viscere, per scaturire come dal cratere di un vulcano e farle scoppiare, al pari di un cannone caricato eccessivamente? Rimaneva l'impiedi, pazza di spavento, con lo sguardo fisso sul fenomeno. Poi, d'improvviso, zettò un grido, come non ne ho sentito mai, e cadde riversa. Scappai, mi infilai nel letto e chiuci gli occhi con forza, come per provare a me stesso che non avevo fatto nulla, visto nulla, che non m'ero mosso dalla mia camera. Mi dicevo, è morta, l'ho uccisa, e ascoltavo ansiosamente i rumori della casa. Andavano, venivano, parlavano, poi sentii ridere, e infine, ricevetti una grandilata di scapaccioni dalla mano paterna. Il giorno dopo, la signora Dufura era pallidissima. Beveva continuamente dell'acqua. Forse, nonostante le assicurazioni del medico, tentava di spegnere l'incendio che credeva celato nella sua pancia. Da quel giorno, quando in sua presenza si parla di malattie, emette un sospiro profondo e mormora, se sapeste, cara signora, ci sono certe infermità così strane? E non aggiunge altro. Grazie. 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 Grazie.